ciao benciulle in questo video volevo parlarvi anzi più che parlarvi volevo chiarire un po' di cose allora tantissimi ricevo tantissimi messaggi di persone che mi chiedono se ho facebook allora sì sono iscritta facebook col mio nome col mio cognome ma solo per diciamo occupare la mia pagina per occupare il mio nome perché alcune persone hanno creato un falso profilo mio spacciandosi appunto per me accettando amicizie facendo conversazioni con persone che pensavano appunto di parlare con me è un modo per è un modo per bloccare questi utenti fasulli è quello anche di avere un profilo originale quindi dire io sono la vera gabriela bloccate queste persone perché sono delle dei profili fasulli quindi sì ho facebook però non lo uso mai quindi se qualcuno di voi ha chiesto l'amicizia io non do appunto l'amicizia perché non entro mai in facebook non mi interessa usare facebook preferisco solo ed esclusivamente a dedicarmi a youtube visto che ormai siete tantissimi scrivete tantissimi messaggi tantissimi complimenti tantissimi critiche mi scrivete di tutto e di più tantissimi commenti vieni qua patatina vieni amore mi scrivete tantissime cose quindi preferisco dedicarmi solo youtube e rispondervi solo lì che non avere blog twitter facebook avere mille posti dove puoi perdermi nelle risposte o nelle cose quindi sì ho facebook però non lo uso quindi non chiedetemi l'amicizia perché tanto non lo uso ed è lì fermo bloccato seconda cosa se avete richiesto richiesto l'amicizia appunto a me su facebook e io ve l'ho accettata e avete parlato con me che non ero io ma erano i falsi profili che che c'erano fino a qualche settimana fa perché l'ultimo appunto l'ho bloccato qualche settimana fa appunto non ero io quindi qualunque cosa voi avete chiesto qualunque cosa vi abbia detto non ero io ecco ve lo dico già non ero io il mio profilo vero è quello che ha la foto in bianco e nero che la stessa foto del mio secondo canale di j'adore le monton se voi andate sulla home page di questo di questo di questo canale vedete che appunto c'è un quadratino che ho scritto appunto a un secondo canale dove parlo solo di galateo lì c'è una foto è un mio mio viso in lilla ecco quella foto lì in bianco e nero è la foto mia della mia pagina vera di facebook quindi se voi avete richiesto amicizia da altre gabriele su facebook con altre foto non ero io anzi vi dico se se voi avete richiesto un'amicizia a queste pagina queste persone e vi hanno detto qualcosa o voi avete chiesto qualcosa e questa persona vi ha risposto vi pregherei di mandarmi un messaggio privato dicendomi appunto cosa avevate chiesto e come questa persona vi ha risposto perché vorrei sapere appunto se almeno si è comportata bene con voi o no questa è una cosa che che mi preme molto sapere se era una persona almeno educata o se magari era una persona mal educata poi qualunque cosa voi vogliate chiedermi o mi scrivete un messaggio possibilmente o scrivetemi un messaggio nei commenti dei video o se no un messaggio privato quello che voi mi scrivete sulla pagina di facebook all'inizio sono riuscivo a stare dietro a tutte le domande ora siete veramente in tantissimi e quindi mi è più semplice rispondere o tramite commento o se no tramite messaggio personale ma baia carolina cosa c'è? vieni qua sapete perché baia? perché ha fame amore? vieni patatina amore vieni amore vieni vieni ecco quindi qualunque cosa voi vogliate chiedermi c'è una domanda vi pregherei di farla di metterla o sui messaggi privati o se no sotto i commenti così per me sarà più semplice rispondervi che non fare una domanda sulla mia home page che poi devo andare sul vostro sito per rispondervi come ogni volta io clicco rimuovi pensando che rispondi e ogni volta poi vado a cancellare il messaggio è così, più forti di me non so perché non fanno un'opzione rispondi direttamente anche dalla home page così sarebbe molto più semplice poi volevo dirvi appunto dei messaggi volevo dirvi di facebook appunto non ho twitter non ho blog non ho cose in giro so che hanno aperto vari blog che si chiamano non sono io quindi se voi avete visto dei siti dei blog dei profili facebook dei profili twitter non sono io ti fidate da tutte queste persone non sono io mi potete trovare solo sul canale j'adore le make up cioè questo mi potete trovare sul canale l'altro quello del galateo che è j'adore le bontons anzi se magari qualcuno di voi non lo sa ha aperto il secondo canale più o meno un anno fa luglio quasi un anno fa e in quell'altro canale parlo solo di galateo quindi qualunque cosa voi magari siete curiosi di sapere qualcosa qualche notizia in più magari se avete delle richieste qualunque cosa andate sull'altro canale si chiama j'adore le bontons e lì parlo solo di galateo lì quello è solo il mondo del galateo invece qua appunto parliamo un po' di trucco di accessori di cose così quindi su tutte non sono io mi potete trovare qua j'adore le make up o j'adore le bontons tutto il resto non chiedete non fate non sono io mi spiace ma anzi se qualcuno di voi ha avuto contatti con queste persone che si spacciavano per me fatemelo sapere se almeno si sono comportate bene o se non si sono comportate bene quindi con questo è tutto caroline non si fa il bidet in onda in diretta eh con questo è tutto e così dobbiamo dire e noi ci vediamo al prossimo video ciao manciulle ciao